Costruisce lì, ok 27 fatto raga e Ok, fatto Un po' di danno e Mamma mia me lo sarò mangiato questo raga Ragazzi nel video di oggi voglio andare a fare una challenge E' veramente molto 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 difficile Infatti se non farei in questa esatta partita 20 kg dovrò regalare 10.000 vi bacca, beh Sì è praticamente tantissimo Ragazzi mi raccomando prima che inizi questo splendido video Supporta il creator, ha digitato il solo e unico codice Supporta il creatore più bello, più figo del mondo Più ho avuto PH, più mi supportate ragazzi Più c'erano tantissimi nuovissimi contenuti Quindi mi raccomando ragapua, nello shop con la Che alla fine sennò non sono io Eccoci ragazzi siamo in partita, buonasera signor best Oggi le devo fare una challenge Oggi le devo anzi dire una challenge Che i miei ragazzi ho già detto e sarà che Non posso permettermi di non fare 20 kg in questa partita perché appunto se farò 20 kg Non ti dovrò dare 10.000 vi bacca Ma se non le dovessi fare te ne dovrò dare 10.000, mi sono un po' intrippato con le parole Però spero che lei abbia capito Se tu non fai 20 kg Mi devi dare 10.000 vi bacca, molto semplice Assolutamente Intanto io ho già fatto una prima kill Va bene, però tranquillo che farò di tutto Per non farti fare le altre 19 Ti ricordo che sono tante Altre 19, intanto sei tranquillo 18 me ne devi far fare perché un'altra che Oh, sto andando a poco Sto andando a poco Muori un pochino, bravo Dai, così va bene Il cavolo che muoio, anzi questo è mio E questo è... Oh, porca va Dai che muori Mentre schifo comunque No, 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 l'ho ucciso Stia tranquillo Signor Best Perché non muori mai? Ma che cavolo? Ma perché dovrei morire? Mi chiamo Powa Uso il codice Powa Che chiunque usa il codice Powa È sempre fortissimo Ah, quindi dici che io uso il codice Powa Ehm... Su te... Non lo so, ecco Diciamo che non posso vedere che codice hai nello shop Però non è che sei un fenomeno Best ti voglio bene Ma non è che sei un fenomeno Quindi... Ho fregato il pompa Let's go È che me ne frega Tanto c'ho quello Fortissimo Qua mi sa che ce n'è uno Best Arrivo, arrivo, arrivo Che te lo devo stillare subito Stillare Ti piacerebbe stillare Me ne è che... Powa Oh, cavolo da me Arrivo, arrivo, arrivo Eh, porca macchina Devi venire, devi venire Sono qua, sono qua, sono qua Devi venire proprio Ok, distrutto o morto? Mamma mia, raga Che bella kill, signor Best Me ne hai un po' stillate Ma sono un pochino Ma non ho fatto... Ma non ho fatto nulla, tu L'ho guanitato e basta, eh Tu gli hai dovuto solamente tirare un colpo di piccone Finita lì, però dettai Ragazzi Ragazzi Aspetta, aspetta Ragazzi, scrivete nei commenti qua sotto Quante cacchiate al giorno ne dice questo Best Qua, dei cavolo Secondo voi Da un numero da 1 a 1 miliardo Secondo me è 1 miliardo e 299 104 Ecco, lo sapevo Eh, sembrava troppo strano che Non lo diceva Troppo strano che non lo diceva, veramente Dai, signor Best Venga, venga Che qua dobbiamo fare altre kill Intanto ho già 4 kill Un buono start Oh, c'è uno con la torretta Eh, non lo so È un torrettone Che spara con la torrettina Dov'è? Eh, intanto lei ha shield per me Tipo shield Medici Guarda Aspetta, aspetta, aspetta Tiene un po' di shield Ecco No, no No, 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 no Tanto non ti faccio danno Brutto Nabbo Ma cosa, cosa fai? Eccolo lì No, Best No, Best No, Best Che quelli sono forti Sono forti quelli Best Oh, ah Mi ha sfaltato il culto Culto, sì Ma sono fortissimi in questo tetto Vai via, vai via Porca vacca Con la torretta del cavolo Ce la puoi fare pure Mi sa che questi mi vogliono finire Proprio dei bastardoni Non l'avrei mai detto No, mi distorcio da quella parolina Dov'è che? Mi dica dov'è Mi dica dov'è È lì, è lì, è lì E l'altro sul tetto là What the fuck? What the fuck? No, no, no No, dai Ma che cavolo che gioca le pubbliche? Mi sa che me ne devo andare Signor Best Vai, vai, vai Tranquillo Dopo mi rianimita Porca vacca Porca vacca Dai Arrivo gattonando forse Ce la farò No, Best Non ci credo Questi qua sono troppo Troppo, troppo, troppo Forti Io come faccio? Vabbè, troppo forti Spammano con una torretta Non è che ci vuole un genio No, poi l'ho trovato Il shield Questo Sono morto Sono morto Let's go Che bello Che io sono morto Sei tranquillo Non è che sono morto Anzi, quello che viene dopo Shield ti prego Ok, ok, ok Comunque devi fare 20 kill E ne hai solamente 4 Te ne mancano 16 Non vorrei Sì, ma questi qua Guarda questa Ok, no Mi è stato col pompa Dai, 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 dai Oh mio Dio Poi si è messo malissimo No, non male Quello che viene dopo Te lo dico io Vedate Vengono di sopra Eh, lo so Lo so che sono sopra Lo so Porca vacca No, raga No, raga No, raga Oh mio Dio Mi è stato di nuovo Sono due Attento sopra Ok, morto uno Bravo, bravo Bravissimo Mamma mia, raga Ok, ha distrutto questo qui Questo headshot Ma con un'altra Un'altra, eh Un'altra headshot È finita Un'altra headshot Ed è finita Dai, dai, dai È lì sotto Pusha Spara Ti prego Sì, let's go Oh mio Dio Raga, non so come ho fatto Let's go Che cavolo di chi è il signor best Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Dica tutto Tutta fortuna L'avrei fatto anche io Sì Guarda best Tu l'avresti fatto Te lo dico io A occhi chiusi Con il monitor spento Senza il computer Pure l'avrei fatto Incredibile questa cosa Porta della mente Oh signor best Perché ci sono Questi così qua Intanto lo ha distrutto No, 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 no Sono dei terroristi questi Fuggi No, mi dissocio Da quella parolissima Bruttissima Quella parolissima Paperissima Cosa stai dicendo? Proprio Porca vacca Ovunque 115 Atterrato? Sì, è atterrato Ovvio Donna mia Madonna mia La potenza Oh, ho tagliato qualcosa Che esplode Lo so, lo so Porca vacca Guardate questo L'ho visto Ok Bravo con il kunai Madonna mia Il kunai Troppo forte il kunai Il kunai Non è forte È solo Lo sanno usare solo i pro 70 La galina canta Sì Raga, mio Dio Che cavolo sto facendo Best, best, best Questa cosa Questa cosa non va per niente bene Se ne fai solamente 12 in più Ti devo dare Anzi tu mi devi dare 10.000 V-Bucks Quindi non Non me le devi dare Anzi Quindi non va niente per me Tu hai capito male La sfida era un'altra Porca vacca Signor best Signor best Ci sta lanciando le granate Porca vacca Che si permette Guardali 27 a 1 27 a 1 Sono troppo forte Un altro 27 Best Best Crackato 1 Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Lanciano gli inkunai Lanciano gli inkunai Ok Uno l'ho ammazzato Uno l'ho ammazzato in qualche modo Non so come Si è fatto più che bene Si si Signor best Signor best È dentro quel box lì È quello che vede Sto sparando L'ho ucciso Ok Molto bene Orca Orca Orco Vai Pua Il cavolo Vai Pua Come Ah no Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No di fianco Non va bene per nulla Sta roba Dai 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 No mi ha rubato la kill No 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 È impossibile È impossibile Signor best Questo allo scarra No no Minomale che ti hanno rubato la kill Però eh Vattene via immediatamente Pua te lo consiglio Porca vacca Per la seconda volta Che bello Per la 90 Ok Ok ho trovato un botto di roba interessante Ma scusa Ma non potevamo Non potevamo giocare a pacman Perché a forza Ma come a pacman Mi scusa Che cavolo è che gioca a pacman Il 2021 O 2022 Che cavolo che siamo Io gioco a pacman Posso giocare a pacman Puoi Puoi Però Però Oh mio dio Mi è stato Non ci credo Best 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 Ragazzi Dove è andato best Io non l'ho assolutamente Spulso Ma questo è un altro discorso Ragazzi Siamo in una nuova partita Perché purtroppo Quella di prima Diciamo che non è andata Bene 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 E dopo Appena sono morto Raga Best ha subito iniziato a esultare Porca vacchina Oh mio dio Oh mio dio Non so come ha fatto Ho subito iniziato a esultare Chiedendomi Poi 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 Potrei Averlo Espulso Però Fa niente Ragazzi Assolutamente Mi è assolutamente Scivolato il dito Non volevo Assolutamente Adesso ci facciamo Questo scendone Cerchiamo di fare Le 20 bombe In questa partita E poi ovviamente Dobbiamo mandare la foto Anche perché Sapete Sennò poi best Mi dà E poi Non mettetevi Non mettetevi Bacca Quindi Cerchiamo di fare 20 partite 20 kill In questa partita E mi raccomando Solo con un bel like Solo per l'espulsione Di best Da il gruppo Che assolutamente Non so chi sia stato E spellorlo Oh c'è gente Qui ragazzi Noi nel dubbio Lanciamo delle granatine Magari Non ci vedono E Dove cavolo è andato Questo qua Scusatemi ragazzoli Dove cavolo è andato Eccolo lì Eccolo lì E Cerchiamo di Bianco Let's go Chi è il nostro Chi è il nostro Raga Chi è il nostro Io mi devo sempre concentrare Quando gioco Questo qua è un piccolo problemino mio Che devo cercare di Fatare Come si suol dire Qua faccio così Qua faccio così E ci siamo ragazzi Dovrebbe essere uno lì Esatto Facciamo così E ok Questo qua è tipo un pro Ehm Porca Vacca Raga Porca vacca Questo qua è veramente 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 Forte Come potrei Giocarmela bene Qui raga Come potrei Come potrei Assolutamente Non lo so Come potrei raga Cerchiamo magari di fare una roba del genere E Boom Ok Non so come ho fatto raga Mamma mia Ma certo che Questo qua non è che era un pro Ecco però tutti questo schede Il cavolicchio Ragazzi Ditemi se anche voi nei commenti Avete questa cavolo di skin qua Che io odio totalmente Che sarebbe il supereroe 3 kill per noi Facciamoci questo scudone Cerchiamo di andare a pushare Chiunque troviamo Dato che Dobbiamo dedicare la partita Al nostro Caro best Non si trovano qua Non penso Vabbè Andiamo Pucci sparano Attenzione Perché qui sopra Ce ne dovrebbe essere uno Raga Ok Dai 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 Vengo da te Stai tranquillo Vado sopra Porca vacca Però non mi costruisce Lì Ok 27 fatto raga E Ok Esatto Un po' di danno E Mamma mia Me lo sono mangiato Questo raga Tendo qualcuno qua Raga da dietro Spariamogli da dietro Anche se non è Diciamo La mossa De Porca vacca La mossa Di porca vacca E Powa Volevi dire La mossa Di porca vacca Ma che cavolo Sta facendo questo Cos'è un bombardamento Porca vacchina Andiamo Facciamoci questi Scendini che sono qua Raga ma ormai La gente gli piacciono Proprio sti Sti Come dico io Sempre culi Ecco però si chiamano Cunai Quindi Ok Ehi Basta 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 Ehi Sì vabbè Ma chi è questo raga Chi cavolo è questo Spiegatemi Che lo voglio andare A conoscere a casa È un pro È buca questo E forse è buca raga È esattamente Sopra Qua Sopra 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 Raga Ehi Vabbè raga A me che cavolo Do fare questo qua Ma tutti con lo spazio Stanno sempre Sono morto Da due che avevano lo spazio Se avete notato La partita prima Vediamo se riesco A uccidere No raga Mi sa che non ce lo faccio Neanche i materiali Come cavolo faccio Io spiegatemelo Ok Distrutto Ucciso Let's go Let's go Let's go Raga Che bella giocata Che ho fatto questo Come lo prendo io No 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 Altri no eh Altri no eh Altri no per favore Altri no Sì ma che cavolo Devo fare Io raga Non ce la faccio più È troppo Troppo Pieno Di gente Allora Faccio prima Fare una roba del genere Va Tanto non ho Nei materiali Non ho cure Non ho proprio un cavolo Faccio prima A non fare un cavolo Eccolo qua Dele pende Dele pende Questa sì Che mi piacciono Cavolicchi Se no faccio una roba del genere Ecco Magari Vado in safe Con il lanciagranate Porca raga Mi ha sparato dall'altro lato Sì ma come faccio io raga Devo Devo veramente Compiere Un Non lo so Che cosa devo Sì vabbè Poi Qualcos'altro no Devo compiere un miracolo Raga Devo coprire Sì Allora O gli faccio 200 O gli faccio 200 Raga O gli faccio 200 O gli faccio 200 O se no me ne vado Che faccio prima Sinceramente Ok E sono morto Sono decisamente Morto da 3 2 1 E Boom No Eh vabbè Sì Ragazzi vi ringrazio Per la visione di questo video Come vedete Ormai giocare alle pubbliche È un infarto Cioè È impossibile Però mi raccomando ragazzi Prima che finisca questo video Supporta creatore Datele nel negozio oggetti E inserite il solo Unico codice Supporta creatore Più bello e più figo del mondo Pio W H Con l'H alla fine Sono non solo io Poi premete accetta E vi ringrazio tantissimo Ragazzi ci vediamo stasera Levelore2030 Su Youtube Vi ricordo Il nuovo merch È uscito E trovate i link In descrizione Ciao bellissimi